Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale. Oggi in questo video voglio parlarvi di quello che forse è uno dei primi attrezzi che acquista un hobbista per il suo fai da te, ossia il seghetto alternativo. Tengo a precisare che non è una recensione a questo modello ma ne parlerò in genere come funziona e quale sono le lame adatte per i vari tipi di utilizzo. Di conseguenza andremo a vedere le caratteristiche principali e come funziona, dato che quasi tutti i modelli bene o male si assomigliano per quelle che sono i tasti o i selettori per le varie funzioni. Andremo a fare alcune prove su alcuni tipi di materiale e come vi dicevo testeremo le lame più adatte ad ogni singola situazione, ossia faremo una distinzione fra lame per metallo o per legno e fra queste vedremo quali sono più adatte in base ai materiali. C'è da fare anche una distinzione fra vari tipi di legno, se sono laminati, se sono rivestiti o se dobbiamo fare un taglio più o meno grossolano e veloce o ci serve essere un poco più precisi. Per i metalli o per i pvc andremo utilizzare invece delle lame specifiche e faremo qualche prova. Prima di cominciare ricordo per chi non lo avesse fatto di iscrivervi al canale, fatemi sapere nei commenti se questo tipo di video vi è stato utile. Ho da poco aperto un profilo instagram quindi se volete seguirmi anche lì fate pure, la trovate facilmente, Antonio Cannistraro è il mio nome e cognome. Dove vado a postare qualche foto qualche dettaglio o qualche particolare di quelli che sono le mie lavorazioni. Mi trovate anche su facebook sempre cercando il mio nome e il mio cognome. Se mi volete chiedere l'amicizia sarò ben lieto di accettarvela. Detto questo comincio a farvi vedere nel particolare quello che è la macchina il seghetto alternativo. Andiamo a vedere nel dettaglio come è composto e come funziona un seghetto alternativo. Precisiamo che questo tipo di attrezzo per il fai da te non è un attrezzo di precisione. Infatti è difficile tenere la squadra, tenere le linee dritte. Anche dopo parecchia pratica comunque si fa sempre fatica ad avere i lavori puliti. Diciamo comunque che è il primo attrezzo che un hobby stava acquistare per il proprio laboratorio. Quindi ritengo importante fare questo video. Per chi per la prima volta vuole cimentarsi nel fai da te, secondo me è uno dei primi macchinari a cui si deve avvicinare. Passiamo ora a vedere come funziona. Allora questo è il tasto di accensione on off che lavora soltanto a pressione e non è un variatore di velocità. Quindi non con questo andiamo a cambiare il numero dei giri del motore del seghetto alternativo. Qualora volessimo lavorare in maniera continuata, non pressando, basta interbloccarlo con quest'altro tasto. In questo caso il seghetto alternativo, anche in maniera un po' pericolosa, sarà sempre in funzione. Per sbloccarlo basta ripressare sull'interruttore e si rilascia in automatico il blocco. Sul frontale poi abbiamo il selettore di velocità. Passiamo da un minimo di 1 a un massimo di 6 dove andiamo a sprigionare tutta la potenza del seghetto alternativo e quindi a aumentare e diminuire la velocità. La cosa più importante secondo me nei segreti alternativi dell'ultima generazione è questo selettore. Serve a creare un movimento a pendolo a quella che è la lama. Passiamo da un minimo di 0 dove andiamo a escludere. Quindi la lama ha soltanto un movimento perpendicolare fino a un massimo di 3 in cui praticamente creiamo alla lama un effetto pendolo. Quindi la lama, oltre a salire e scendere, ha questo movimento rotatorio, chiamiamolo rotatorio, quasi impercettibile all'occhio per le elevate velocità. Quindi serve per agevolare quelli che sono i tagli sui legni più duri, sui materiali più duri o più spessi. Da questa parte troviamo la brucola per l'inserimento della lama. In alcuni modelli trovate anche una levetta e il nesto rapido. Quindi basterà aprire questa leva, inserire la lama e richiuderla. La lama deve essere montata all'interno di questa ruota, ossia deve essere alloggiata in questo modo. Non così, non così, ma all'interno. Questa praticamente è quello che presente guiderà la lama durante il taglio. È presente il bocchettone per l'adattatore all'aspirapolvere per aspirare quello che sono i trucioli di lavorazione. Inoltre è possibile con la brucola andare a inclinare il piano per andare a creare dettagli inclinati. Ovviamente parliamo sempre di tagli di con poca precisione. La potenza di un segreto alternativo decente varia dal 600 watt alle 850 watt. In questo caso abbiamo una buona potenza per quello che è questo tipo di attrezzo. Le velocità del motore sono quasi sempre regolabili da un minimo di 600 a un massimo di 3000 giri al minuto. Facciamo un piccolo cenno su quelle che sono le lame per il segreto alternativo. Allora, fondamentale innanzitutto andare ad acquistare delle lame con l'attacco specifico al vostro segreto alternativo. In questo caso questo mio modello ferm monta lame di tipo Bosch, quindi si intende praticamente questo tipo di attacco a baionetta. Un altro modello è quello che presenta dei fori e una U sopra la testa della lama. In quel caso facciamo attenzione a comprare le lame giuste per il segreto giusto. Nelle confezioni troviamo sempre la descrizione di quello che è il lavoro della lama. Passiamo a vedere quelli che sono i spessori da un minimo a un massimo e quello che è il lavoro specifico. In particolare vi faccio ad occhio una prima distinzione fra quelle che sono le lame più diffuse. Partiamo da questa. È particolare perché è una lama molto più stretta rispetto a quello che è lo standard. A cosa serve? Innanzitutto è una lama da legno. Lo riconosciamolo al tipo di dentatura e soprattutto perché c'è scritto. Questa lama così stretta serve per pannelli fino a un 15 mm di spessore ed è fatta apposta per permetterci di ruotare e fare delle sagome molto strette. Quest'altro tipo di lame invece è sempre per legno. Si nota subito la larghezza del dente e la sua grossezza. Serve per andare a fare dei tagli molto rapidi su materiali anche molto spessi come roba di circa di 5 cm. Ed è un taglio sicuramente veloce. Nello stesso tempo andiamo a perdere qualità nel taglio. Ossia andiamo a creare uno strappo alla fibra del legno e quindi è adatta per quei lavori di troncatura veloce dove comunque sarà necessario andare poi a rifinire il pezzo con carta vetrata o altri tipi di elettroutensili. Questa qui invece è sempre una lama da legno. Si nota la differenza di dentatura. Qua abbiamo un doppio dente destra sinistra ed è una lama sicuramente più lenta come taglio ma molto molto più pulita. Infatti è specifica per legni con spessori fino a 3 cm. Io la uso parecchio quando mi capita di montare dei pavimenti in laminato o di tagliare del truciolato rivestito in melaminico o in laminato perché la pulizia che si ottiene è sicuramente maggiore rispetto a quest'altro tipo di lama. Andiamo poi a quelle che sono le lame per il metallo. Fondamentalmente è un po' lo stesso identico ragionamento. La larghezza del dente va ad essere utile per tagli più grossolani. Quella più stretta invece per materiali e tagli più precisi. Qua abbiamo possibilità di tagliare metalli fino a 3 mm. Questa qui invece ci permette di tagliare anche degli scatolati fino a un centimetro e mezzo di spessore. Ovviamente è possibile tagliare anche dei tondini o dei profilati in alluminio. Con l'alimentazione scollegata vado a allargare la brucola per il serraggio della lama e comincio subito con questo tipo di lama, quella per il tagli curvi. Insisco tutto fino a sentire un click e vado a serrare nuovamente il perno. Intanto comincio facendovi vedere il funzionamento vero e proprio. Così sono alla massima velocità. Vado ora a ridurre la velocità. Vi faccio vedere ora la differenza che con il pendolo inserito lo porto direttamente alla massima inclinazione e riparto da zero. vedete qua praticamente questa parte che rimane fissa con l'inserimento a zero. Se invece lo sposto a tre quindi la massima inclinazione c'è un saltellamento della ruota che accompagna la lama. Per questo tipo di spessore che è un 6 mm di betulla uno scarto imposto a zero l'inclinazione e vado a fare questo tipo di sagoma. questo tipo di taglio con una lama più larga sarebbe risultato molto molto difficile andare ad andare a fare. Vi faccio vedere subito che contro venatura ho scheggiato leggermente il pezzo per quanto quando sono andato invece lungo la venatura il taglio è venuto molto molto pulito. Vado ora in questo caso su questo spessore di 5 cm di abete a tagliare questa a tagliare questa porzione. Sto utilizzando la lama con denti larghi per questo tipo di taglio così spesso senza inserire nessun tipo di pendolo. Farò mezzo taglio dopodiché porterò il pendolo a livello 3 e vedrò la differenza che c'è fra un taglio a taglio perpendicolare e uno con oscillazione. Vado ora inserire il il pendolo a livello 3 porto un po' indietro la lama ma farà partire l'attrezzo con la lama già appoggiata al pezzo perché tende a saltarci in faccia. e cosa vado a notare che nella prima parte del del taglio ho fatto una certa fatica e ho sì mantenuto una pulizia maggiore rispetto al pendolo perché inserendo il pendolo andiamo a perdere di qualità di taglio ma mi ha dato molto più velocità in quello che è il lavoro finito è pur vero che ho scheggiato parecchio perché ho fatto un taglio controvena utilizzando la stessa lama con un taglio lungovena il taglio verrà nettamente più pulito. Un piccolo trucco è quello di non spingere il seghetto alternativo per essere più veloci nel taglio ma ha il suo tempo. Cosa succede se andiamo a spingere il segreto alternativo che la lama tenderà a storcere e andrà a fare questa flessione o in un senso o nell'altro anche perché si riscalda e quindi sarà un po' più tenera e la lama si andrà a torcere. Dandogli invece il giusto tempo di taglio e facendolo lavorare non sforzandolo questo tipo di difetto di questo attrezzo si andrà nettamente a diminuire quindi ci garantirà dei lavori più puliti. Ho montato la lama per tagli più puliti e la andremo a utilizzare su un pezzo di truciolato rivestito. Il taglio con questo tipo di lama è venuto veramente molto molto pulito nonostante stiamo parlando di un melaminico di un laminato veramente scadente. Vado a montare ora le lame per il metallo e farò due teste su due tipi di materiali pbc questo tubo arancione in pbc è un fondino di metallo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Anche in questo caso il taglio è venuto pulitissimo abbastanza semplice del pbc da 40 mm di diametro quindi potremmo utilizzarlo anche per questo scopo. Anche in questo caso il risultato è stato portato a buon fine. Ovviamente dopo la lavorazione va pulito il metallo che ovviamente leggermente sbava parliamo questo di un alluminio di 12 mm di diametro. Come vi dicevo questo è un elettrotensile molto utile perché con l'intercambiabilità delle lame ci permette di lavorare con diversi tipi di materiale facendo sempre le dovute attenzioni perché a causa dell'elevato numero di giri del motore può creare dettagli anche abbastanza profondi alla persona. Detto questo finisco qua il video. Spero che queste piccole nozioni di basi possono essere utili a qualcuno. Ricordo per chi non lo avesse fatto di iscrivervi al canale. Non mi resta che salutarvi. Ciao e alla prossima!